Vabbè, vantieri c'hanno mezza fata a cogliere, io nulla, nulla, io così io mi sento come primo, come 10 anni fa, come 30 anni fa, non ancora. E allora non sarà che esagerano? No, non esagerano, perché anche il dottore, quello di Santa Maria Nova, mi toccò il polso e mi disse, ho le vibrazioni.